Poi per ultimo, sistemate le cose precedenti, bisogna affrontare il problema della sovranità monetaria cioè come lo Stato può riprendere in mano uno strumento così importante pur rimanendo all'interno dei trattati semplicemente con la moneta fiscale perché la fiscalità è comunque una sovranità dello Stato la sovranità monetaria è dello Stato e quindi con questa manovra noi possiamo rimettere in moto l'economia e sicuramente dare dei vantaggi questo è come funziona il Sire è un meccanismo abbastanza semplice il Ministero dell'Economia e delle Finanze istituisce un conto corrente fiscale presso l'agenzia delle entrate con il codice fiscale di ogni cittadino e ogni azienda quindi tutti nel momento in cui nasciamo abbiamo il nostro conto corrente fiscale che cosa serve questo conto corrente fiscale? a far circolare in questo conto corrente tutte le riduzioni, le agevolazioni di cui noi abbiamo diritto non so se tu abbia avuto esperienza sulle agevolazioni per le risturazioni edilizie dove tu spendi dei soldi per ristrutturare un appartamento lo Stato ti restituisce quella cifra sotto forma di riduzioni fiscali negli anni successivi se lo Stato ti avesse dato la possibilità di scrivere queste cifre che tu detrarai negli anni successivi in un conto corrente e ti desse la possibilità di trasferire queste riduzioni tra un soggetto e l'altro queste riduzioni diventerebbero uno strumento monetario perché io potrei chiaramente accettare da te una riduzione di cui tu avrai diritto fra un anno in pagamento per una qualsiasi altra cosa è simile ai certificati di credito fiscale? è molto simile solo che sarebbe elettronica e gestita direttamente dal Ministero delle Finanze mentre i certificati di credito fiscale hanno bisogno comunque sempre del sistema bancario che li deve prendere in deposito o altro quindi è un modo come un altro per creare un'alternativa molto più simile alla moneta bancaria che noi usiamo ti immagina avere una carta di credito con la scritta Agenzia dell'Entrato e Ministero delle Finanze nel quale tu passando questa carta di credito trasferisci una riduzione fiscale da un soggetto a un altro adesso quando uno pensa Agenzia dell'Entrato e Ministero delle Finanze gli viene sempre paura allora diciamo che ci scriviamo Ministero del Tesoro che forse è meglio visto che Agenzia dell'Entrato e dopo può creare qualche altro problema